Stiamo perdendo tempo e di tempo ne è rimasto ben poco. Ogni mente sufficientemente lucida si può rendere conto della gravità e della complessità della situazione globale di cui la pandemia, con tutti i suoi articolati e sfuggevoli risvolti, è solo una porzione, una parziale evidenza. Praticamente perduti nella quotidianità e compressi tra le mani di un sistema di vita che lascia ben poco spazio per riflettere e per agire in conformità alla nostra umana aspirazione e alla felicità, continuiamo a far finta di niente o a credere nel miraggio che qualcuno o qualcosa ci tirerà fuori dal vortice che ci ha rapito. La profonda crisi ecologica, che poi è crisi sociale ed esistenziale, dovrebbe essere il primo e fondamentale tema di cui parlare ogni giorno, a qualsiasi livello, e invece continua a restare un argomento ritenuto di secondaria importanza, almeno che non lo si usi per propagandare la cosiddetta crescita verde, che al di là di ogni possibile virtuosismo ha come obiettivo quello di lasciare inalterata la struttura di potere su cui si regge l'intera economia mondiale. Si tratta di un gioco perverso in cui ciascuno di noi è vittima e carnefice, che ha nefaste conseguenze locali e planetarie, che disegna un presente e un futuro prossimo pesanti, contratti spaventosi. Ma è possibile che non si possa fare niente, che non si possa invertire la marcia, che non si possa intravedere qualcosa di migliore e di non distruttivo? Certo, tutto è possibile, ma ci vuole il coraggio di guardare le cose per come sono e la forza di affrontare le nostre paure, le nostre resistenze, la nostra attitudine a negare le contraddizioni della realtà. Un risveglio collettivo sarebbe desiderabile anche se appare solo all'orizzonte. Affinché una parte consistente dell'umanità possa muoversi in modo coerente, condividendo alcuni principi ecologici di base e alcuni obiettivi fondamentali, servirebbe una vera e propria rivoluzione delle coscienze che in concreto però stenta a manifestarsi. Eppure nel nostro intimo percepiamo che proseguendo in questo modo continueremo solo a fare del male a noi stessi e alle altre specie viventi. Di questo passo ci stiamo spingendo sulla soglia del baratro, verso i punti di non ritorno superati i quali si mettono in moto incontrollabili effetti a catena capaci di ridimensionare drasticamente le possibilità di vita su questo pianeta. Questa percezione, questo sottile filo rosso che ancora ci lega ad una speranza di cambiamento dovrebbe diventare consapevolezza e azione, la chiave di volta che può aiutarci a rivedere in profondità il nostro modo di essere. Nonostante non lo crediamo più, noi continuiamo ad essere immersi nelle leggi di natura ed è inutile provare ad allontanarla con la forca come sosteneva un antico motto latino. Questa si ripresenterà comunque. Per cambiare in realtà sarebbe sufficiente rinunciare. Ma rinunciare a che cosa? In primo luogo rinunciare al posto che ci siamo dati nel mondo e quindi farci da parte, non cedere alla lusinga di considerarci centrali rispetto alle dinamiche dell'universo. Il che significa fare con poco e meglio, ridurre il nostro numero e le nostre pretese, evitare le gerarchie, vivere in comunità egualitarie ed accoglienti piuttosto che nell'anonimato delle metropoli, cibarsi con le produzioni locali in modo sostanzialmente vegetariano, autoprodurre energia rinnovabile, condividere tutto ciò che è condivisibile e conservare la naturalità del territorio in cui si vive, per esempio. Sto parlando di una visione fatta di coordinamento e di collaborazione, di sostegno reciproco, di giustizia e di socialità diffusa in cui si possa vivere e non accontentarsi di sopravvivere. In sostanza esistere con altre priorità, in una prospettiva in cui il nostro ego, e quindi la nostra sofferenza, viene decisamente ridimensionato. È chiaro che tutto ciò comporta la inesorabile caduta di molte delle nostre credenze e del sistema in cui stiamo vivendo. Qualcosa di inconcepibile non solo per chi detiene le varie forme del potere, ma anche per la maggior parte di noi stessi. Utopia? Può darsi, ma oggettivamente, che alternative abbiamo? Conforta il fatto che una diversa modalità, o meglio più modalità di esistere in modo resiliente e diverso dell'attuale, non solo sono possibili, ma sono praticate e praticabili, sebbene su piccola scala, ed è proprio lì che potremo concentrarci, sui benefici della piccola scala. Sappiamo che resta ben poco tempo per produrre questo notevole cambiamento e non possiamo permetterci di sprecarlo.